Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Starebbe correndo gravi rischi per la propria salute la donna che ha partorito la bambina ritrovata senza vita, nella serata di venerdì 28 aprile, all'interno di un cassonetto dei vestiti usati a Milano, in zona Città Studi. E, dunque corsa contro il tempo per trovare la madre, dopo che i primi risultati dell'autopsia sul corpo della neonata, anticipati dal Corriere della Sera, avrebbero rivelato che la piccola sarebbe stata collocata all'interno del bidone giallo quando era già morta. Nei prossimi giorni si saprà anche se il decesso è avvenuto durante il parto o se la bimba era già morta quando è stata partorita. In ogni caso, la madre non dovrebbe versare in buone condizioni di salute e la sua posizione, nel corso delle indagini, potrebbe anche alleggerirsi. Si fa sempre più largo, dunque, l'ipotesi che la neonata trovata senza vita in un bidone per la raccolta dei vestiti usati a Milano, in realtà, sia nata morta. E i primi risultati dell'autopsia, riferiti da Il Corriere della Sera, farebbero propendere in questa direzione. Ma, intanto, gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, coordinati dal PM Paolo Storari che ha aperto un fascicolo per infanticidio al momento a carico di ignoti, in attesa di esami anatomopatologi più approfonditi, i cui risultati arriveranno solo nelle prossime ore, continuano a cercare la madre e chi può aver lasciato quella bambina nel cassonetto in zona città studi. Anche perché, sottolinea Il Corriere, proprio alla luce dell'esito dell'esame autoptico, crescono i timori per la salute della madre. La morte del feto potrebbe essere legata a una grave patologia della donna e c'è il pericolo che sia esposta a emorragie o a infezioni post-parto.